In prossimità dell'estate tutti noi vogliamo metterci in forma e cominciamo a fare diete e cominciamo a praticare più attività fisica nell'ottica di dimagrire e quasi sempre cerchiamo anche tra virgolette qualche aiuto, qualche pozione miracolosa, qualche integratore che favorisca il dimagrimento. Ebbene nel panorama degli integratori che possono aiutare il dimagrimento senza altro trova spazio l'utilizzo di un eventuale termogenico. Che cos'è il termogenico? Il termogenico è un integratore in grado di stimolare il consumo di calorie da parte dell'organismo bruciando di più i grassi proprio per favorire la produzione di calore, la produzione di energia a partire dai grassi. Quali sono gli integratori termogenici più comunemente utilizzati per questo scopo? Bene, ovviamente quello più conosciuto e che forse utilizziamo tante volte inconsciamente non solo per bruciare grasso ma per avere anche un boost di energia è la caffeina che noi assumiamo quando prendiamo per esempio un caffè, però la possiamo anche trovare sotto forma di principio attivo integratori specifici. Ebbene la caffeina ha assolutamente dimostrato la capacità sia di migliorare la prestazione di tipo a livello del sistema nervoso centrale, quindi aumentare l'attenzione, aumentare quindi la capacità di sostenere un allenamento a livello di fatica, ma anche appunto di attivare la lipolisi tramite l'attivazione di particolari recettori beta che sono quelli che favoriscono il consumo dei grassi. Altro integratore ormai consolidato e scientificamente dimostrato essere utile, abbastanza privo di effetti collaterali, anzi direi privo di effetti collaterali se consumato secondo le indicazioni d'etichetta, è la sinefrina. La sinefrina è un parente lontano dell'efedrina. L'efedrina è un integratore, o almeno era un integratore in America, che veniva utilizzato proprio a scopo dimagrante. Poi invece è stato tolto perché sembra che desse eccessivi stimoli anche a livello del sistema nervoso centrale e cardiaco. Per cui tutti gli integratori che contenevano l'efedrina sono invece stati sostituiti mettendo al posto dell'efedrina la sinefrina, che ha un effetto analogo a livello di stimolo della lipolisi, ma ha un effetto minore di stimolazione a livello del sistema cardiaco e del sistema nervoso centrale. Quindi l'ultimo integratore termogenico che ha in realtà anche altri benefici a livello di salute e non ha un effetto di stimolazione del sistema nervoso centrale o comunque molto limitato è il tè verde. Quindi questi integratori normalmente che contengono questi principi attivi combinati insieme riescono ad aiutare e accelerare il processo di dimagrimento che normalmente ovviamente non deve prescindere da un'adeguata alimentazione e attività fisica.